per a tutti mi vedrete vestita truccata pettinata come nell'ultimo video che ho postato ossia il tag di grace anatomy perché perché sì sono un po indietro con la programmazione questa settimana non avrò molto tempo e quindi ho deciso di girare due video nella stessa giornata di solito non lo faccio o almeno di solito cerco almeno di cambiarmi i vestiti ma oggi non ne ho proprio la forza mi sono svegliata da poco anche se è quasi tipo le otto di sera e quindi quella di oggi è la seconda puntata della mia rubrica top of the flop ed è una puntata sequel perché sì perché torniamo ancora una volta a parlare del mondo che anna todd sta completamente rovinando quindi io vorrei parlarvi oggi del terzo capitolo della serie di after di anna todd come mondi lontani allora sarà qualcosa di molto veloce molto conciso ma che io spero sia efficace e che veramente vi eviti di comprare questa cosa allora come l'altra volta vi prego se non volete spoiler passate proprio il video da inizio alla fine perché mi lascio andare a piede libero sarò molto concisa e non andrò molto nei particolari semplicemente perché credo che a questo punto di cose da dire siccome ce ne siano non vorrei diventasse insomma ripetitive in ogni caso avevamo lasciato la situazione after acquisto cioè il primo libro mi era piaciuto la storia era molto carina i personaggi stereotipati però passabili e vabbè il secondo libro come sapete mi ha scatenato il drago dentro perché perché è la cosa più assurda che io abbia mai letto perché le situazioni sono le cose sono veramente aspettate no non è per me meno male vabbè le situazioni sono tra le più assurde che io mi sia mai trovata a leggere e in generale la scrittura è proprio brutta e volgare il più delle volte allora questo libro allora intanto il periodo di cui tratta questo libro sarà una settimana cioè tutto questo per una settimana in questa settimana succede di tutto allora lui ha un'udienza per sapere se viene esponso o no da scuola due vanno in vacanza con i genitori di lui cioè il padre di lui e la matrigna e litigano tutto il tempo litigano per cosa litigano in questa vacanza litigano perché lui si stava per dimenticare il preservativo lei lo guarda come dire beh allora e lui si incazza e lei si incazza di rimando cioè d'accordo ok sorvogliamo lui si ubriaca tornano a casa trovare la porta aperta di casa e praticamente pensano sia stato il padre ritrovato di tessa che è un barbone aggiungiamocelo perché è un barbone e il padre di tessa si viene a scoprire che è un ubriacone e che si fa da più di un anno però lei non ci vuole credere lui non glielo dice poi dopo lei ci sono tutte le storie che lei vuole andare a shuttle per andare a seguire il suo lavoro lui dice tra una roba e un'altra stai facendo una cazzata oltretutto per chi hai avuto sto diamine di lavoro cioè non è sicuramente per le tue capacità no è perché mio padre e io ci siamo messi in mezzo per trovarti un lavoro al primo anno retribuito quindi io ti sto chiedendo di non lasciarmi non abbandonarmi non vuole andare a stiatto lui e lei se ne fotte altamente le palle perché io e te ne abbiamo passate troppe ragazza bella stati insieme da sei mesi cioè non è che sono sedici anni sono sei mesi e vabbè sorvoliamo anche su questo arriva finalmente il bel momento in cui mi dico o hanno capito qualcosa i due si mollano i due si mollano lei disperata disperata proprio veramente disperata si va a rifugiare diciamo tra le braccia della sua vecchia amica stef la sua compagna di stanza che vorrei ricordarvi era prima amica di arden e non di tessa vabbè e stef la convince a partecipare ad una festa che dovrebbe essere la sua festa di addio perché dopo sarebbe andata a siattol però in effetti così non è e in effetti questa stef non è neanche sua amica quindi oltre che stupida sei anche credulona perché arrivi a questa festa c'è della gente che tu odi lei continua a dirti sì sì è la tua festa ho dovuto invitarli perché dovevo facevano parte del gruppo e le dà sto cazzo di bicchierozzo con della droga dentro e quindi la droga e la fa quasi stuprare e arden non è lì per una volta però c'è zed c'è quell'altro povero cristo che tu stai prendendo per il culo da un millennio e ancora e ancora sei innamorata di questi qua di questo mondo e ancora ti stupisci sei stupida sei tu tessa che sei stupida cioè ancora questa non me l'aspettavo assolutamente non me l'aspettavo da da lei ma tu lo sapevi e che cosa succede arden va a trovarla da sua madre litiga con la madre di lei e lei non lo vuole vedere cioè lo vuole vedere ma non lo vuole vedere poi dopo lei si trasferisce finalmente a siattol e c'è finalmente la possibilità che i due si calmino calmino un pelettino perfetto lui va in palestra e si scarica in palestra e sembra diventato una persona normale va a scuola fa le sue robe vede il suo fratellastro lei invece fa i melodrammi perché di qua vede la scrivania e pensa quando ci ha trombato sopra con arden e poi dopo aspetta un attimo che ce ne sono a si esce con un suo collega di lavoro e si sente in colpa perché in quel momento arden gli telefona e che cavolo ma vivi in poco cioè non stare lì a farti delle palle tutto vabbè comunque tra una roba in altra questo capolavoro non poteva non finire con del sesso telefonico e quindi ragazzi miei dopo questo mio riassunto seppure sconclusionato alquanto esauriente io vi assicuro che tutto ciò che ho detto succede qua dentro e più o meno in sequenza vabbè comunque sì lai lasciamo tessa e arden ad un futuro quasi roseo perché hanno deciso di fare sesso telefonico quindi vuol dire che si sono perdonati e attendo con ansia l'uscita del quarto volume che esce all'inizio del mese prossimo e credetemi ragazzi io non vedo l'ora di leggerlo perché ho voglia di cavarmi tutta questa serie dalle scatole sinceramente e niente preservate i vostri soldi evitate di comprarlo scusate lo sfogo anche non sempre con parole in lingua normale ma con favolosi francesismi alquanto volgari mi scuso con tutti quanti o con coloro che comunque potrebbero prenderla a male ma ho veramente bisogno che voi capiate che cosa vuol dire questo libro e quanto male io mi stia facendo ma io mi conosco io sono una sadica e quindi dovrò terminare tutta la serie non potrò finirla qui dovrò andare avanti quindi ci vediamo molto presto con letture molto più piacevoli e al top of the plot del mese prossimo un bacio ciao ciao ciao